Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua con i quarti di finale del torneo 9 Siamo arrivati terzi nel girone, quindi affronteremo i secondi dall'altro girone Quindi sarà abbastanza tosta Eh sì, oggi ragazzi è la prima volta in cui c'è davvero il dentro o fuori Quindi non si può più sbagliare Tra l'altro giochiamo contro il 6 di il Ponteggi Come dicevi tu, Pocanzi è la seconda classificata dell'altro girone Ma un piccolo aneddoto che negli ultimi tre anni abbiamo affrontato sempre i quarti di 6 di il Ponteggi Abbiamo perso prima 4-1, poi 3-1 Ovviamente non abbiamo portato il contenuto su YouTube Quest'anno sì, quindi oggi sarà davvero la prova del 9 Tra l'altro ci manca un nostro difensore Giuliano Caputo Però comunque la squadra è rodata, abbiamo preso Pozzi e Orlando Quindi ha preso una fisiologia diversa L'FDM Team, come la vedi? E soprattutto come la vede il capocannoniere del torneo? Sì, secondo me siamo una bella squadra, dobbiamo fare più attenzione La fattoria dei terzi è stata la prima partita Siamo migliorati nel corso del tempo e oggi è da vincere Eh sì, tra l'altro sei reduce da 3 gol di fila Oggi potresti raggiungere la tua quarta marcatura di fila Che sarebbe importantissimo considerato che è un quarto di finale Come dicevamo prima, da dentro o fuori Dunque adesso andiamo a sentire i protagonisti che prenderanno parte a questa sfida Andiamo da Veraclaya, da Pozzi, da tutti quanti Andiamo all'interno dello spogliatoio Oggi Fabio dà le maglie Beppe? È arrivato Vediamo la concentrazione sul volto di Guido De Rosa Eccolo, il mago Quante frecce scoccherai in questi quarti di finale? Questo pesce, sono messo da pano Oggi le frecce le scocche alla ragazzina Primo dentro o fuori ragazzi Qui c'è Fabio di Mauro che fa la ricotta E' questo, con lui, capitano Fabio, fa la ricotta Fabio Prossimo anno apriamo il nostro caseificio Oggi doveva venire Gollini in porta Però alla fine ce l'ha dato Pacco e abbiamo detto allora chiamiamo Pitto Con l'infortunio come si è ammessi? Come l'altra volta Abbiamo fatto bene Fabio, qui c'è la squarazzchelia di Mauro Fabio l'ha fidato E allora eccoci finalmente in fase di telecronaca Per raccontarvi questo quarto di finale del torneo Novi Una partita da dentro o fuori Una partita che non si può sbagliare Signore e signore Ecco a voi FDM Team c'è di il ponteggi Sì è sicuramente una bella partita oggi Molto stimolante La posta in palio è alta C'è la sin finale da raggiungere E troviamo contro l'FDM Arrivato terzo nel suo girone Dall'altra parte il c'è di il ponteggi Arrivato secondo I presupposti di vedere una bella partita ci sono Vediamo chi avrà la meglio E intanto ecco il testo croce Da parte dei capitani di entrambe le squadre Da una parte Fabio Di Mauro Per l'FDM Team Dall'altra Simone Ceregatti Per il c'è di il ponteggi Che sceglie la zona di campo in cui vuole stare In questa prima frazione di gioco Il possesso sarà Per la squadra di Fabio Di Mauro Che intanto vediamo come si schiera Ultimo Ivan Pozzi Laterale destro Fabio Di Mauro Laterale sinistro Nicola Scalaia E come pivot Rena Gerlesco Che si alternerà proprio con Nick A fare il pivo Partono dalla panchina Guido De Rosa E Orlando Tanto È tutto pronto al calcio d'inizio Che avviene ora Con Nick Abracalaia Che gioca la sfera all'indietro Proprio per Fabio Da questi a Pozzi Dunque Gerlesco Cerca spazio Decide di tornare sempre Con l'aiuto del 77 Capo cannoniere Capo cannoniere di questo torneo Che riceve ora la sfera Da Renna Si gira Fabio Fino in fondo Fabio Poi contenuto Dalla retroguardia Avversaria Proprio da Ceregati Dunque Govoni Prova a ripartire Ancora Sebastiano Biondi In possesso Col portiere Dunque Ancora una volta Buono il tocco Da parte L'attaccante Della squadra avversaria Che cerca di Ripartire Poi Pit Va a giocare Una sfera per Fabio Che la gira di prima Per Nicola Scalaia Elegantemente Davanti a sé a Bogdan Fallo da parte Di Bogdan E fa ripartire Ora Biondi Dunque Adesso il fallo Su Fabio Da parte Di Ceregati Si porta a casa Un calcio di punizione Che sembra intenzionato A battere Proprio Nicola Scalaia Che va di prima A sinistra Da Gerlesco Che punta Ceregati Gerlesco La rete dell'1-0 Si sposta la palla Sul sinistro Ed è un gol Micidiale Un fulmine a ciel sereno Quello di Rena Gerlesco E più 1 Per FDM Team Prova a transizionare In avanti Calaia Che ora ingaggio Il duello fisico Con Bogdan Se la cava Con una solata Incredibile Per porsi da questi A Di Mauro Che va da Rena Si sovrappone Il 77 L'11 lo vede Dunque Fabio Fino in fondo Fabio Contenuto da Govoni Peccato la palla Gli è rimasta un po' sotto Ma adesso seguiamo La ripartenza con Ceregati Che cerca il sinistro Ceregati La palla di poco Finisce a lato Il tiro si perde Vicino all'incrocio Dei pali Buono lo squillo E la reazione Da parte del Ceregati Si buona iniziativa Con quella parte di Ceregati Che va su Mancino Va su Piedeforte Cerca questa conclusione Che sembrava anche Abbastanza aggolata Buona comunque La difensiva Da parte dell'FDM Che riesce a contenerlo Adesso seguiamo ancora Biondi Che va da Govoni Cerca il numero Poi si capisce tutto Attenzione Calaia Abra Calaia Le finte Calaia Fino in fondo Calaia La palla di mani Attenzione Gerlesco Ci mette una pezza Govoni Dunque ancora Gerlesco Sebastiano Biondi Le finte di Gerlesco Biondi capisce tutto Che può ripartire Poi con la collaborazione Di Govoni Ritorna Gerlesco Poi la palla giocata Al centro Per Bogdan Che adesso Sciupa malamente La palla dell'1-1 Aveva concesso tanto In questa occasione L'FDM team Non ne ha Non ha inferito Il Ced Il Ponte In questo caso Avrebbe potuto fare Qualcosina in più Ma attenzione Che non è finita Riparte Ancora una volta Il capitano Ceregati Palo Si bisogna stare attenti Perché anche in queste partite Ha dimostrato ogni tanto L'FDM di concedere Qualcosina in fase difensiva Fa sempre molto bene Quell'offensiva Ma poi quando c'è da difendere Non sempre lo fanno In maniera Equilibrata Adesso Orlando Il destro Adesso reagisce di nuovo L'FDM con Orlando Che va dentro per Gerlesco Che addomestica Questo pallone Gerlesco Al centro c'è Pozzi Lo vede Gerlesco E arriva il doppio vantaggio Di Ivan Pozzi Il gol del 2-0 E quello del maestro L'ultimo acquisto Dell'FDM team Che si sblocca Al torneo nuovi Lui il 21 Prima il 22 Pardonno Adesso seguiamo Ceregati Che prova a ripartire Ceregati si sposta la palla Sul destro Cerca di sterzare No glielo concede Ivan Pozzi Che gli chiude lo spazio Per poter calciare in porta E adesso È calcio d'angolo Per il cialdo il ponteggi Sì che comunque In questa partita Si sta dimostrando Abbastanza pericoloso Abbiamo già visto Un palo colpito Un intervento da parte di Pit E sta salendo Adesso Ceregati dentro Per Mazzoni Che domestica la sfera A cercare lo spazio Per il destro Che lo prova Pit Largo a sinistra Ceregati Lo vede Bogdan Proprio il capitano Ingaggia il duello In uno contro uno Con Abra Calaia Lo fa fuori seco Fa fuori anche Orlando Ceregati La palla Fa la barba al palo Da Orlando Che cerca una soluzione Vicina se la trova In gerlesco Ingabbiato In mezzo al traffico Se la cava Magicamente l'undici Che va a innescare Orlando Dunque Fabio Il sinistro In un qualche modo Bigoni Stava andando Dalla parte opposta Rispetto a come è partito Il tiro Tuttavia è riuscito A neutralizzarlo A impedire che il pallone Potesse entrare in porta Sì quasi qua Il portiere è andato Sulla postura di Fabio Visto che Corpo un po' aperto Pensato che potesse Tirare alla sua destra Fabio alla fine Ha tirato a chiudere Peccato perché Non ha chiuso benissimo Non ha tirato In una maniera eccellente Tiro quasi centrale Ancora Ceregati Attaccato ora da Fabio Da Orlando Riacquisisce il possesso Fabio che cerca Lo spazio per il sinistro Fabio La palla deviata Proprio da Ceregati Ma attenzione che non è finita Con Guido De Rosa Che prova ad avanzare Il tunnel Incredibile su Mazzoni Poi è sempre In possesso Il numero 22 Guido De Rosa Che torna all'indietro Da Gerlesco adesso Ennesimo possesso Elegante E incredibile Da parte dell'FDM Team Con Orlando Viene incontro Fabio Lo vede Orlando Fabio di prima A sinistra da Gerlesco Gioca sul velluto L'FDM Team Dunque Orlando Che cerca lo spazio per il destro Lo tenta Poi scarica Dove c'è Fabio Capisce tutto Mazzoni Che però si va a riprendere Il pallone Con l'ausilio Di un giocatore Della propria squadra Poi cerca il destro Govoni Ed ora attenzione Al forcing di Bogdan Che cerca lo spazio per il sinistro Non lo trova dunque Mazzoni Che dialoga sempre con Bogdan A questo è il terzo uomo Govoni Pitt ancora una volta E poi Fabio In difesa Proprio su Govoni Va da Pozzi Che non allontana il pallone Attenzione Bogdan Ingenuità Clamorosa Della retroguardia avversaria Adesso bisogna fare Qualcosina in più Lo sa Pozzi Che prova ad avanzare C'ha Fabio tutto a destra Preferisce andare tutto a sinistra Però da Gerlesco Poi si propone sempre Pozzi L'11 preferisce andare dal 10 Ancora Bracalaia Fino in fondo Fa fuori anche Bigoni La palla rimane lì A Bracalaia Palo Doppio palo Tocco con la mano Calcio di rigore Calcio di rigore Adesso ottimo il lavoro Di Nick A Bracalaia Che cede la sfera A Fabio Di Mauro Che potrebbe Ipotecare Il suo nono sigillo Al torneo Novi E' comunque apprezzabile Qua il fatto che Calaia E' lasciato la palla a Fabio Pronto a andare Fabio Incrocio dei pali Incredibile Secondo legno colpito Su traversa E adesso un passo dal 3-0 E bisogna stare attenti Perché ora potrebbe riprendersi Il cedil ponteggi con Govoni Che va sul sinistro Govoni Pit Baroni Ancora una volta a dirgli di no E poi Giardesco si porta a casa Un calcio di punizione prezioso Un Nick Bracalaia Che non ha ancora trovato la rete In questo torneo Ricordiamolo Una cosa non da lui Ma adesso attenzione Boso L'ottimo lavoro a favorire C'è regatti Il sinistro Pit Baroni No E questa è la sua risposta Sul tentativo del capitano avversario Ma adesso seguiamo che non è finita Ancora Boso Che cerca lo spazio per il centro Duella Pozzi Che poi si va a riprendere il possesso Con la collaborazione di Abracalaia Che vuole una mano La trova sempre nel maestro Che ora A differenza di prima Va lunghissimo Nella maniera Più pragmatica possibile Rende vivo questo pallone Gerlesco Ottimo il lavoro anche su Govoni Gerlesco fino in fondo Renati il destro Adesso Baroni va lunghissimo A cercare Orlando che di prima La gira per Calaia Lo stop di tacco di Calaia Molto bene Abracalaia Che torna da Orlando La finta anche da parte del 21 Che cerca Ora ancora una volta Abracalaia Che cerca il numero incredibile Abracalaia Adesso la palla Ostruita Dalla retroguarda avversaria Forse c'è stato anche un tocco di Bigoni Ma intanto Non c'è un attimo di respiro Perché ripartito c'è regatti Che fa tutto bene Fa tutto da solo Poi Pozzi Ci mette una pezza Seppur Concede un calcio di punizione Da una mattonella Interessante sul punto di battuta Va proprio Buoso Adesso Buoso E Mazzoni Sul punto di battuta Pronto a andare Buoso Che Becca Nicola Scalaia In barriera Ha postato Molto bene Ivan Pozzi Che va A scodellare Questa sfera per Orlando Che riesce a domesticare Un pallone difficile Poi Orlando col tacco Elegantemente Intelligentemente per Pozzi Esterno della rete Viene incontro Buoso C'è regatti Preferisce ancora un po' Avanzare Poi sterza sul destro Dunque allarga tutto A destra Dove trova Biondi che va al destro Murato In un certo senso Proprio da Buoso E finisce ora il primo tempo Sul punteggio di 2-0 Per l'FDM team E adesso c'è tutto il secondo tempo Per congelare Ed ipotecare Questo quarto di finale Ad aggiudicarsi La semifinale Tirate forte Perché veramente Mi sta venendo Male Perché non tiriamo Poi per favore Facciamo quello che vi ho chiesto Vi ho chiesto Se scendiamo tutti Sotto la linea della palla Attacchiamo il pivot Più indietro dei laterali I laterali che salgono là Siamo sopra 2-0 Dobbiamo solo aspettarli Temporezzarli Non accompagnarli Magari finalmente dall'aria Che tira la palla sporca Forse da pilla E se prendiamo la palla Andiamo per noi Stiamo andando bene Stiamo andando bene Stiamo andando bene Dai fai che arriva Il secondo tempo Un po' il gol Broma devi beccare la porta Te l'ho sempre detto Tira più o meno lì Ora gioca un po' più di ritmo Sposto e calcio Sposto e vado Però stiamo andando bene Tranquillo che il gol Arriva il secondo tempo Hai fatto Un'altra mole di parata È considerevole Grande Ren Anche te Ren Tira 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 Dunque eccoci Tornati in questa ripresa Per vivere il secondo tempo Assieme e vedere Se l'FDM team Riuscirà a passare il turno E riuscirà ad aggiudicarsi Questa semifinale Avanti 2-0 Non può sbagliare Sì Sicuramente abbiamo visto Anche un bel primo tempo In cui entrambe le squadre L'hanno attaccato Nel corso dei primi 25 minuti Vediamo adesso Se comunque cambierà Un po' lo spartito L'FDM non ha fatto Una brutta partita Fino ora può fare Qualcosina di più forza In fase difensiva Adesso Buonagovoni Dentro sul pallone Di Ceregatti Ma adesso seguiamo Orlando Che va da Gerlesco Si gira bene l'undice A destra Fabio Prova ad andare da solo Gerlesco Poi lo va a pescare In un secondo momento Il 77 Prova Fabio ad andare avanti Si sposa la palla sul destro Molto bene Fabio che gioca al centro Per Orlando Mazzoni Si aventa sul pallone Nega Che questo possa arrivare Proprio ad Orlando Adesso Pozzi Molto bene il lavoro su Govoni Ancora Pozzi La palla viene giocata Ugualmente all'indietro Che trova Mazzoni E arriva il gol Che accorcia le distanze Proprio da parte di Mazzoni Ottimo lo spunto Da parte di Govoni Pozzi aveva fatto Quel che aveva potuto Adesso riapre una partita Apparentemente chiusa Mazzoni Ne deve approfittare L'FDM team Con Orlando Che va dentro Da Rena Gerlesco Che sfida uno contro uno Bogdan Gerlesco il sinistro Ancora Andrea Bigoni Viene contro Orlando Lo vede Fabio Affida la sfera proprio al 21 Che torna sempre dal 77 Da questi al 10 A Bracalai Ha rientrato Dunque Di Mauro Lo spunto Molto buono su Buoso Che poi si va a riprendere la sfera Ma Di Mauro la meglio E poi il Mancino Si perde nuovamente Di poco Alato Ancora Ceregatti Cerca il centro Uno dei giocatori Che ha giocato meglio Da parte del cedro Adesso Pozzi Si aggancia con Buoso Calcio di punizione Questo Pozzi vuole Chiarimenti Ha praticamente Preso l'avversario Il pallo per me è netto In questo caso Poteva starci forse pure la munizione Visto che l'attaccante Stava andando via Il pallo comunque Ci sta Vediamo Perché comunque È un buon tentativo questo Pronto ad andare Proprio il capitano Col Mancino Pit Con la spalla sinistra In collaborazione Con la guancia Sinistra Riesce a neutralizzare così Un tentativo pericolosissimo Da parte di Ceregatti Ma adesso non è finita Con Buoso Che cerca addirittura La vole La rovesciata Entra Guido De Rosa Con la 22 Intanto Baroni Che va lunghissimo Da Nicola Scalaia Che duella in mezzo a due Ancora Bracalaia Il destro Un Nick che non ha ancora Trovato il gol In questo torneo novi Chissà Se oggi riuscirà a trovarlo Ma seguiamo intanto L'azione che non è finita Con Guido De Rosa Che cerca di sprintare Capisce tutto Biondi Dunque Govoni Profondità Esce Pitt E meno male Riesce a sventare Una potenziale minaccia Sempre puntuale Nei suoi interventi Pietro Baroni Che tralasciando la prima partita Dove è un po' peccato È sempre stato Perfetto Ed ora L'FDMD Mi ha anche messo Le cose a posto Grazie a questo intervento Ma adesso Guido De Rosa Prova ad avanzare La verticale A cercare Gerlesco Capisce tutto Ancora una volta C'è Regatti Che va da Govoni Che carica il destro La palla rimane lì Attenzione Che buona Buoso Pitt Strepitoso L'intervento Del numero 12 Che da terra Alza le mani E con la mano sinistra Sventa La palla del 2-2 Che parata ha fatto Baroni Adesso davvero Una parata Monster Quella del numero 12 Confermato Nell'FDM Team A fronte Dell'ultime Grandissime prestazioni Intanto Calaia Recupera un pallone Subisce anche un fallo Gerlesco Ubriaca Due uomini E poi va a servire A destra De Rosa Che torna sempre Da Gerlesco Due volte Ancora da Biondi Ancora Mazzoni Che va a destra Dove trova C'è Regatti Cerca lo spazio per il sinistro Vediamo se lo troverà Pozziglio lo chiude Gli concede quello sul destro Poi il pallone messo al centro È poco pericoloso Si ira proprio Della sfera Orlando Che torna da Gerlesco Che va da Orlando Il destro Bigoni si supera Ancora forcing FDM Team Con Renat Che va da Orlando Ancora Gerlesco Che fa fuori un uomo Gerlesco fino in fondo Renat col destro Sbaglia la cosa Più facile probabilmente Vediamo Biondi Che va da Mazzoni Che prova ad avanzare A spazio davanti a sé Cerca di prenderselo Dunque a sinistra Trova Govoni Da questi a Biondi Che va ancora una volta Da C'è Regatti Capisce tutto Orlando Orlando fino in fondo Cerca dentro Renat Gerlesco E arriva la doppietta Di Renat Ed è 3 a 1 E l'FDM Team Forse mette un'ipoteica Sul passaggio In semifinale Ma la partita è ancora lunga Si rimane 3 a 1 Quando siamo ormai Il diciottesimo minuto Con Pit Che va a nescare Fabio Di Mauro Che sfida Biondi Poi il tocco Con la mano scivolando E attenzione Che genera Il sesto fallo Per l'FDM Team Nonché tiro libero Per il Cedil Ponteggi Adesso oltre al danno La beffa Vediamo se Un eccezionale Pietro Baroni Riuscirà A impedire L'accesso del pallone In porta Ed evitare il 3 a 2 Pronto andare Govoni col destro Riapre la partita Riapre le danze L'esultanza di Govoni Che porta il Cedil A meno 1 Quando mancano ormai 6 minuti di gioco Al termine dell'incontro Più che altro Adesso c'è anche Il pericolo Del tiro libero Adesso Fabio Cerca di girarsi In mezzo al traffico Non ci riesce Poi Arena Gerlesco Forse fallo Non secondo il direttore di gara Tra l'altro Ricordiamo che Ora ogni fallo Sarà tiro libero Un fattore da considerare In maniera Meticolosa Per l'FDM Team Che non può concedere Più nulla Adesso Fabio Buone lavoro su Bogdan Prova ad andarsene Fabio Attaccato da Bogdan Mani sulla schiena Calcio di punizione Plateale L'FDM Team È a pochi minuti Dalla semifinale È a più a 1 Adesso Orlando Va dentro da Calaia Che si gira bene Su Bogdan Calaia Riparte Pit Che va da Fabio Che cerca Abra Calaia Che cerca di tenere vivo Questo pallone Lotta anche con Buoso Poi Fabio E Calaia Attenzione Toccato Altro tiro libero Per il Chad Il Ponteggi Che ora può portarsi Sul 3 pari Sul punto di battuta Si presenta ancora una volta Govoni Adesso a quota 6 Potrebbe portarsi addirittura A quota 7 A meno 1 Dal capo cannoniere Del torneo Fabio Di Mauro Qualora facesse Questo gol Ma soprattutto Cosa più importante Potrebbe portare La propria squadra Sul 3-3 Pronto andare Govoni Pit para Stesso angolo Pit È andato ad intuito Ha tirato davvero Molto bene Govoni Ancora una volta Calcio di punizione Dalla 3-4 Ma io fallo laterale Con Fabio Che riconquista Il pallone Subboso Dunque Calaia Che torna sempre dal 77 Che cerca lo spazio Per l'interno Spazio negato Da Govoni Però rimessa in gioco Ancora una volta Da parte di Fabio Di Mauro Che chiama un uomo Vicino a sé Arriva Pozzi Che scambia proprio Col 77 Che cerca lo spazio Per tirare Dunque Calaia Non riesce a rendere Il pallone di ritorno Al 77 Ma Nick Si va a riprendere Un'altra sfera Subboso Ottimo il lavoro Di Abra Calaia Che va da Fabio Che carica il mancino Traversa Incredibile anche Il tocco di Bogdan Che in scivolata Riesce Ad alzare Un pizzico Questo pallone Traversa interna La palla Non entra Bogdan è stato Providenziale Riuscendo ad alzare Un pelo Quel tanto che bastava Il pallone di Fabio Ma adesso seguiamo Orlando Che va da Pozzi La forbice Per andare sul sinistro Non riesce Capisce tutto Bogdan Che va dentro da Govoni Govoni lo sprint Gioca la palla Al centro Orlando Autorete Ed è 3 a 3 Baratro FDM team Esulta Govoni Esulta Tutto il ced Il ponteggi Ceregati che si va a riprendere La sfera Cerca di transizionare Ceregati che va a destra Da Govoni Pit Ha un passo addirittura Dal 4 a 3 Ora Il ced Il malessore Renatz Baglia il passaggio Su Pozzi Attenzione a Ceregati C'è largo Bogdan Ceregati decide di fare Tutto da solo Bravo Renat E poi Forse il fallo di Pozzi E così è Adesso la palla Del potenziale 4 a 3 Praticamente a partita Finita A un passo Da un pallone Che potrebbe valere La vittoria Pronto Andare Buoso Alta Alato Ma si perde sul fondo Ora Baroni va lunghissimo Più lungo che può Per Abra Calaia Che cerca lo scarico Non lo trova Abra Calaia Allora fa tutto da solo Palla altissima E Alato Quanto sta rischiando Una partita Che sembrava chiusa Ora non lo è più E rischia la sconfitta Adesso ottimo lavoro di Calaia Cercare Renato Gerlesco Ma il direttore di gara Fischia tre volte Se andrà ai calci di rigore Sì abbiamo visto dunque Una bella partita Molto equilibrata Entrambe le squadre Hanno prodotto molto E l'FDM per me Non ha fatto un'ottima fase difensiva Partita che va dunque ai rigori Vediamo chi vincerà La lotteria Eh sì Una lotteria che non è mai andata bene Fino ad oggi All'FDM team Vediamo quale sarà L'epilogo di questa giornata Ricordiamo la sconfitta A Gatteo Mare E anche quella di Polesella Ai quarti Ai calci di rigore Con la squadra Che tra l'altro Ha vinto il torneo Mora è tutto pronto Bagovoni A lato Inizia male Il ced il ponteggi Primo per l'FDM team Lo batterà Nick A Braccalaia Sì ho rigore Comunque non ha calciato bene La parte di Govoni Che ha dimostrato anche Di avere un buon piede Nel tiro libero precedente Qua chiude troppo Palla che termina fuori Neanche di poco Baccalaia Due passi ed è gol Bigoni non arriva Era sulla traiettoria La palla però alta E ora pronto ad andare Bogdan come secondo rigorista Parte il tiro Rete Centrale Sì non ha badato qua A mezzo misura Bogdan che calcia A maniera potente Non pensa alla precisione Calcia ad occhi chiusi E gli dà ragione lui Trova la rete Adesso Orlando Pronto ad andare Orlando La parata di Bigoni Una parata Difficilissima Tra l'altro Ed è di nuovo Pareggio Peccato Giornata sfortunata Per Orlando Intanto si chiama Mazzoni Anche lui centrale Pit di nuovo Come prima A sinistra Terzo di gole Per l'FDM team Pronto ad andare Baroni Anche lui centrale Come è successo Per i due gol Che ha preso precedentemente Così ha fatto anche lui Calcia con molta intelligenza Secondo me Ha pensato soprattutto Agli altri due rigori In cui il portiere Si è buttato E ha stabilito Che quella migliore La scelta migliore Fosse quella di tirare centrale Adesso pronto ad andare Buoso Pit c'è Pit para Gli dice di no E ora La palla Può scottare E chi se la va a prendere Se non Fabio Di Mauro In giornata Sfortunatissima Quest'oggi Ugualmente Vuole battere Il rigore del potenziale Più uno Alla giornata Sicuramente non felice In ottica realizzativa Pronto ad andare Fabio Perfetta nell'angolino Tocca Bigoni Ma non basta Questa volta Barattato l'angolino Alto per quello basso Scelta che ha portato I suoi frutti E ora Pronto ad andare Ceregatti Col mancino Apre tutto Pit questa volta È rimasto centrale Giocatore 2006 Dell'FDM Team Renat Gerlesco Qualora facesse gol Porterebbe L'FDM Team In semifinale E ora Gerlesco Guarda negli occhi Bigoni Pronto ad andare Gerlesco E arriva il gol Che sancisce il passaggio In semifinale Da parte dell'FDM Team Glaciale Il 2006 Che con una personalità Non da tutti Trascina la sua squadra Trascina l'FDM Team In semifinale Oh raga Chi è in semifinale Raga Chi è Nick Vedo un Nick scarico Com'è Renat Gerlesco MVP Della giornata di oggi Un applauso a Renat Ragazzi L'altro due gol Incredibili E stasera Andiamo Grazie Renat Vai Renat Allora Fabio Impressioni su questa partita Com'è stata Dicela tua Mi fa anche fatica Ad essere felice Non è perché Non ti dà neanche I rigori Comunque ti hai Ad essere felice Dalla vittoria Però Era da vincere Io Era da vincere Io Un po' prima Sono i vivi Delle parate Grosso applauso a Pete Che oggi È stato monumentale Ha parato due rigori Giusto Se non ho visto male E allora eccoci nel post partita Anche con Pete Pietro Baroni Uno dei MVP della giornata Te la sei vista meglio o peggio Della scorsa partita Beh bella domanda In realtà È facile Eh la scorsa ho dovuto fare Tante parate più difficili Però qua ci sono state Più situazioni forse Che mi hanno messo in difficoltà Insomma su due o tre interventi Veramente importanti Mi è anche andata bene Insomma l'abbiamo portata a casa Quindi è andata bene anche questa Siamo stati bravi anche sui calci di rigore Te ne hai parato uno Ne hai segnato uno Quindi oltre a parare Oggi sei riuscito anche A mettere un bel sigillo Che è stato importantissimo In ottica Rigori Cosa pensi della partita Cioè secondo te Avremmo potuto fare qualcosina in più Per poterla chiudere Allora un'altra partita interessante Perché come la scorsa Secondo me era molto equilibrata E stavolta Potevamo chiuderla noi prima Non la siamo riusciti a chiudere Per mancanze nostre Lì sotto la porta Perché dovevamo essere un po' più conclusivi Però poi alla fine L'abbiamo tenuta bene L'ora ha recuperato Non si sono riusciti a sfangarla E poi nella lotteria dei rigori Dipende da tante cose Soprattutto dalla fortuna E l'abbiamo portata a casa noi Allora Fabio Noi invece per quanto ti riguarda Come dicevamo prima Non sei riuscito ad allungare Per quanto riguarda il discorso dei capocannonieri Però rimani in testa la classifica Almeno fino ad ora Giusto? Sì per ora sì Innanzitutto dobbiamo arrivare avanti È la cosa più importante Dobbiamo vincere la prossima Speriamo che freperda Così che Magari sia più abbordabile la semifinale La cosa più importante è arrivare avanti Poi il capocannoniere si vedrà dopo Te quanta pressione hai avuto anche tu sul tuo rigore? Chi aveva più pressione secondo voi tra i due? Te quando hai battuto il terzo O Fabio quando hai battuto il quarto? Domanda reciproca Vai prima tu Fabio Ah uguale Non lo so Forse io ho un po' meno pressione Perché appena ho sbagliato un altro Invece Pitt no È la stessa cosa Pitt non poteva sbagliare Neanche lui Io sono un ignorante quando tiro i rigori Vado lì tiro una cannonata e me ne vado Punto Quindi non ho mai pressione io quando tiro E tirato centrale Entro spacco Esco ciao Sì Ho detto prima che dopo tre traverse sul rigore Ho detto no Devo almeno beccare la porta E niente è andato bene Poi sì Anch'io generalmente vado per la potenza Però non volevo più prendere la traversa E allora ragazzi Detto questo Io vi ringrazio per averci visto fino a questo punto del filmato Vi ricordo di lasciare un bel like Commentare Condividere Iscrivervi al canale Attivare la campanellina Noi ci vediamo alla semifinale E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Vamos In T-DAS